La scuola accesa Bambini e bambini la scuola è accesa e come se è accesa 48esima puntata del nostro appuntamento quotidiano Qui è come sempre il maestro Alessio che vi parla Piano piano stiamo raggiungendo traguardi importantissimi Sì perché entro la settimana arriveremo alla puntata numero 50 Inoltre con domani saranno ben due mesi che ci facciamo compagnia pressoché ogni giorno Non male assolutamente Chissà quanti di voi, classe più grande di tutti i tempi, hanno seguito ogni singolo episodio Quante mani alzate, siete tantissimi Grazie mille, ci seguite in moltissimi e l'affetto che ci arriva attraverso i vostri messaggi e i vostri video è davvero fortissimo E i video non sono mica finiti, ce ne sono ancora da vedere sì sì e sono uno più bello dell'altro Ci vuole però un po' di pazienza Ne trasmettiamo uno a sera per goderceli come si deve Del resto sono pezzi unici, opere d'arte irripetibili, meritano il giusto spazio Ricordo a chi non lo avesse ancora fatto che il video si manda al numero whatsapp 351-819-5858 Ormai ne abbiamo visti molti e avrete capito che è una questione di creatività, simpatia e dolcezza Naturalmente anche oggi, in coda alla puntata, vedremo un'altra meravigliosa versione della nostra sigla Dunque, siamo tutti entrati in pieno nella fase 2 Si può uscire di casa, pur con la massima attenzione Perché lo sapete, quel tipaccio del virus è un furbastro senza pari E bisogna essere molto giudiziosi Però le cose stanno gradualmente cambiando E questa è una notizia molto positiva Mi raccomando, uscite con la mascherina Evitate gli assembramenti Ovvero evitate di creare un gruppo di persone che stanno troppo vicine Questo tipo di attività è ancora vietato Perché è stando a contatto ravvicinato che si rischia di più Ma non preoccupatevi, sono precauzioni assolutamente giustificate E comunque speriamo di poter tornare alla normalità quanto prima Anzi, magari il mondo là fuori sarà addirittura più bello Chissà che non si impari a volersi tutti un po' più bene Vedremo, già vedremo Ma ora abbiamo una grande responsabilità Dipende anche da noi cambiare le cose Ma lo so che siete bravissimi E so anche che volete un mondo sano e bello Beh, è arrivato il momento di fare la propria parte E noi qui della scuola accesa siamo prontissimi a fare la nostra parte Con le meravigliose storie, un po' di simpatia e tanta voglia di compagnia E allora, facciamo l'appello Altrimenti, che scuola è? Vediamo Mascherina? Sì, c'è I fratelli guanti? Sì, ci sono, bene Gel lavamani? Presente? Bene, ci siamo tutti, tutti pronti per la fase 2 della puntata Quella super divertente, quella di Matilde E allora, pigiamini autocertificati Copertine anti-assembramento Lucine da corridoio A norma di decreto Maestra Letizia Maestro Federico Che il racconto abbia inizio? Il secondo miracolo Matilde non si precipitò fuori dall'aula con gli altri Quando i suoi compagni furono usciti Rimase seduta nel banco In silenzio Riflettendo Sapeva che doveva raccontare a qualcuno Ciò che era successo Non poteva tenere per sé un segreto così grosso Aveva bisogno di una persona adulta Saggia e comprensiva Che l'aiutasse a capire il significato di quello straordinario avvenimento Sua madre e suo padre Non avrebbero potuto aiutarla Se anche avessero creduto alla sua storia Cosa della quale dubitava Certamente non avrebbero capito Che l'accaduto era davvero sorprendente Decise perciò di confidarsi Con la signorina dolcemiele Lei e la maestra erano rimaste sole La signorina dolcemiele era seduta al suo tavolo E sfogliava delle carte Alzò gli occhi e disse Allora Matilde Non vai a giocare con gli altri? Posso parlarle un momento? Certo C'è qualcosa che ti preoccupa Mi è capitata una cosa stranissima signorina La signorina dolcemiele Si fece subito attenta Da quando aveva avuto I due disastrosi colloqui A proposito di Matilde Uno con la direttrice E l'altro con i signori dal verme Aveva pensato molto alla bambina Chiedendosi come avrebbe potuto aiutarla E ora Matilde era là Seduta Con una curiosa esaltazione dipinta in viso E le chiedeva di parlarle in privato La signorina dolcemiele Non l'aveva mai vista così Con gli occhi sbarrati E l'aria stranita Su Matilde Raccontami che ti è successo La signorina ha spezie in due Non mi espellerà vero? Non sono stata io a meppere Quell'animale nella sua brocca Glielo giuro Lo so Mi espellerà? Non credo La direttrice si agita molto Ecco tutto Meno male Ma non è più questo Che volevo parlarle Che cosa volevi dirmi Matilde? Voglio raccontarle come è andata A proposito di quel bicchiere Lei ha visto che si è rovesciato Sulla direttrice vero? Sì l'ho visto Sa signorina Io non l'ho toccato Non mi sono neanche avvicinata Lo so L'ho detto anche alla direttrice Che non potevi essere stata tu Invece È vero che sono stata io Signorina dolce miele È proprio di questo Che le voglio parlare La maestra La guardò attentamente Non sono sicura Di avere capito Mi sono talmente arrabbiata Per essere stata accusata Di qualcosa Che non avevo commesso Che sono riuscita a farlo succedere A fare succedere che cosa Matilde? Ho fatto rovesciare il bicchiere Continua a non capire Disse gentilmente La signorina dolce miele Sono stata io Con lo sguardo Guardavo il bicchiere E desideravo Con tutte le mie forze Che si rovesciasse E poi i miei occhi Sono diventati strani Caltissimi E ne è uscito uno strano potere E il bicchiere si è rovesciato La maestra continuò A scrutare Matilde Attraverso gli occhiali Dalla montatura metallica Mentre la bambina La fissava a sua volta Non capisco Hai davvero fatto Rovesciare il bicchiere? Sì Guardandolo La signorina dolce miele Rimase un po' in silenzio Non credeva Che Matilde Le dicesse di proposito Una bugia Piuttosto Pensava che si fosse Lasciata trasportare Dall'immaginazione Vuoi dire che te ne stavi seduta E hai ordinato Al bicchiere di cadere? Qualcosa del genere Sì Se l'hai fatto davvero È il più grande miracolo Compiuto da un essere umano Dai tempi di Gesù Sorrise la maestra L'ho fatto davvero Signorina Le fantasticherie Dei bambini Sono davvero incredibili Pensò la signora dolce miele Decise di chiudere La questione Nel modo più gentile Potresti rifarlo? Credo di sì Non lo so La signorina dolce miele Spostò il bicchiere Ormai vuoto E lo mise al centro Della scrivania Devo riempirlo d'acqua? Chiese con un sorriso Non credo Che abbia importanza Va bene allora Su Rovescialo Forse ci vorrà un po' di tempo Prenditi tutto il tempo che vuoi Non ho fretta Matilde seduta in seconda fila A circa tre metri dalla maestra Appoggiò i gomiti sul banco E posò il mento sulle mani Questa volta impartì immediatamente l'ordine Bicchiere Rovesciati Rovesciati Ordinò Ma senza muovere le labbra Si limitò a gridare queste parole dentro di sé Poi si concentrò completamente E fu come se il potere della mente e della volontà Le affluissero agli occhi Di nuovo Ma più in fretta Percepì l'accumularsi dell'energia Mentre le sue pupille diventavano più calde Poi milioni di invisibili piccolissime braccia Si proiettarono verso il bicchiere Mentre lei Senza emettere il minimo suono Continuava a gridare al bicchiere di rovesciarsi Lo vide oscillare e inclinarsi Finché si rovesciò completamente E cabbe sul piano della scrivania A meno di trenta centimetri Dalle braccia concerte della signorina dolcemiele La maestra spalancò la bocca E sbarrò gli occhi Senza dire una parola Del resto non ci sarebbe riuscita Il miracolo l'aveva profondamente scossa Guardò il bicchiere come se fosse in qualche modo pericoloso Poi alzò la testa e fissò Matilde La bambina era pallidissima Tremava e guardava fisso davanti a sé Ma senza vedere Tutto il suo viso appariva diverso Gli occhi erano lucidi E mentre se ne stava lì senza parlare Appariva bellissima La signorina dolcemiele aspettava anche lei Un po' tremante Guardando Matilde che si riprendeva lentamente A un tratto il visetto della bambina Riprese di colpo un'area di calma serafica Sto bene Sto bene Davvero Non deve spaventarsi signorina Sembravi così lontana Sì Ero lontana Volavo oltre le stelle Con ali d'argento Era meraviglioso La signorina dolcemiele continuò a guardarla Come se fosse stata l'alba della creazione Il primo mattino L'inizio del mondo Stavolta è successo più in fretta Non è possibile Non riesco a crederci E' incredibile Chiuse gli occhi per un istante Quando li riaprì Sembrava aver ripreso il controllo di sé Ti piacerebbe venire a fare merenda a casa mia? Sì Mi piacerebbe moltissimo Bene Raccogli le tue cose E vediamoci fuori tra un paio di minuti Non racconterà a nessuno di questo Di quello che ho fatto Vero signorina dolcemiele? Neanche per sogno Matilde Che poteri incredibili Sei veramente piena di sorprese Bisogna proprio dirlo E sono sicuro Che ci riserverai ancora tante avventure E infatti domani Al solito posto O alla solita ora Saremo qui per raccontarle Ci stiamo avvicinando Alla fine del nostro amatissimo libro Seguite con attenzione Gli ultimi capitoli Mi raccomando Bene Allora siamo giunti Al momento tanto atteso Della puntata La nostra challenge Che anche stasera Ci regala una perla Firmata da Yasmin Che ci offre Una simpaticissima versione Della nostra sigla Grazie cara Yasmin È con questo spirito di allegria Che arriveremo Alla fase 3 Alla 4 Alla 5 E poi Riapriremo la scuola finalmente Grazie per il tuo contributo La scuola splende Anche grazie a te E allora cari bambini Buonanotte a tutti E Yasmin A te la sigla La scuola accesa Grazie a te la sigla